Il minicubre, ci ho fatto tanti di quei viaggi, guarda, Roma-Milano e Roma-Genova, la macchina che era... Tu pensa che gli feci cambiare il serbatoio da benzina, perché io ci arrivavo fino a Firenze, ci ho fatto mettere un po' più grande per fare un po' più di strada, perché era una macchinetta, però consumava un sacco di benzina, oltre tutto, sai che c'è, ha dovuto tenere tutto a puntino, c'aveva un gran difetto, che la prima cosa da mettere sotto la gabbia, perché è talmente bassa che praticamente stucca e si rompa la coppa dell'olio, e non è la prima volta, la prima cosa che ti dicono, infatti sotto c'era proprio tutto. Ora, non so sofisticate così queste macchine, però tu pensa che un amico, c'aveva una Giulietta, Alfa Romeo e Giulietta, abitava sotto da me, c'avevamo il garage vicino, e lui, sai da ragazzi faceva corsi, ora se va sull'autostrada, metà una pista, ma quando se faceva il bracco, che se va a Genova, ma col cazzo si piglia la macchina, quella va tutto giù, perché prima di tutto erano le prime macchine che avevano la trazione anteriore, le macchine che avevano tutte posteriori, quindi questo così. Poi c'aveva le ruote dove finiva la carrozzeria, e quindi sta macchina si infilava dappertutto, perché poi camminava, era veloce, perché a Giulietta gli faceva, sì, sull'autostrada, certo, ma quando si faceva il bracco, che tutte curve, tutte salite, tutte curve, quel cazzo, non c'è niente da fare, non c'era, e questo ci rimaneva male, capito, ci rimaneva male, perché io mi ricordo che io viaggiavo de notte, Anna non era tanto contenta, però io viaggiavo de notte, sai perché? Perché pensavo che de notte, ragazzi non viaggia, io vecchio non viaggia, quello che sai, non viaggia, no? Poi una volta non c'era tutto sto traffico, perché l'autostrada de Genoa non è che c'è, ancora non c'è, perché dovevi fare, io facevo Roma-Firenze, poi facevo, andavo a Lucca, e uscivo dove cominciava la strada quasi normale, che era la superstrada, perché la chiamano autostrada, ma lo sai che non c'è una piazzola? Non c'è una piazzola, e poi dopo de giorno, che fai, se ti ricordi c'erano occhiali, tira su, tira giù, tira su, perché lì quando tuppi sta strada, che è un casino sta strada, de giorno, perché tu te trovi un viadotto e una galleria, un viadotto e una galleria, un viadotto e una galleria, cazzo io giro de notte, così è sempre buio e vado bene, e io viaggiavo de notte, io partivo a mezzanotte preciso, io ai 5 stavo a Genova, Grazie a tutti.